Fonderie Limone Moncalieri, 16-21 aprile 2024, repliche accessibili. Medea, da Euripide, regia Leonardo Lidi. Alle Fonderie Limone, di Moncalieri, va in scena lo spettacolo Medea, da Euripide, con la regia di Leonardo Lidi. Le repliche dal 16 al 21 aprile sono accessibili tramite sopra titolazioni in italiano, francese e italiano semplificato con descrizione dei suoni, audio introduzione, audiodescrizione in cuffia e tour tattile. La durata è di 1 ora e 15 minuti senza intervallo. Trama e personaggi. Medea è una famosa tragedia greca di Euripide. Viene messa in scena per la prima volta ad Atene nel 431 avanti Cristo. La storia si svolge a Corinto. Medea è stata tradita dal marito Giasone. Lui vuole sposare Glauce, figlia di Creonte, re di Corinto, per assicurarsi una vita agiata. Medea è sconvolta dal dolore, ha lasciato la propria patria e commesso atroci delitti per amore di Giasone e ora non accetta di essere abbandonata. Creonte teme la reazione di Medea e ordina che la donna lasci la città assieme ai suoi figli prima delle nozze. Quando la giovane Glauce la informa di questa decisione, Medea la convince a rimandare il suo esilio di un giorno e prepara la vendetta. Prima si affida a Egeo, sovrano di Atene, per garantirsi un luogo sicuro in cui andare. Poi invia i suoi bambini a Glauce con doni avvelenati che la faranno morire tra atroci sofferenze insieme al padre a corso in aiuto. Infine, uccide i propri figli per punire Giasone e privarlo di tutto ciò che ha di più caro. Scene e costumi La scena è occupata da una grande teca chiusa, alta 3 metri, profonda 7 e larga circa 13 metri, al cui interno agiscono attori e attrici. Due dei quattro lati sono in plexiglass trasparente, mentre le altre pareti, il pavimento e il soffitto, sono di colore argento. È presente un barco sulla sinistra. Attori e attrici indossano abiti contemporanei e sono scalzi, tranne Giasone ed Egeo che calzano delle scarpe scure. Medea è vestita di nero con pantaloni larghi e una maglia a maniche corte. Glauce indossa un abito aderente fucsia e poi un vestito da sposa bianco. Giasone ha un completo nero con camicia bianca. La nutrice e il pedagogo vestono abiti semplici dai toni neutri. Autore e regista Euripide è uno dei maggiori poeti tragici greci, nato intorno al 480 avanti Cristo. Secondo la tradizione, ha scritto 92 opere, ma solo una parte della sua immensa produzione artistica è arrivata integra fino ai giorni nostri. Medea è considerata uno dei suoi capolavori. Leonardo Lidi è regista e interprete di teatro e cinema. Ha ricevuto importanti riconoscimenti in ambito teatrale. Ha portato in scena versioni originali dei grandi classici del teatro internazionale. Per il triennio 2021-2023 è stato artista associato del Teatro Stabile di Torino. Info, prenotazioni e biglietti Per maggiori informazioni, scrivici ad accessibilità-teatrostabile-torino.it o chiamaci allo 011-5169-460. Prenota in anticipo i biglietti specificando eventuali necessità all'indirizzo biglietteria-teatrostabile-torino.it o al numero 011-5169-555. Le persone con disabilità hanno diritto al biglietto ridotto e l'accompagnatore ha diritto all'ingresso omaggio. Fonderie Limone Moncalieri Via Pastrengo 88 Moncalieri Orari spettacoli Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì Ore 20.45 Sabato ore 19.30 Domenica ore 16 31.45 Domenica ore 16 16 16 19 Grazie a tutti.